Ponte Emilio è il ponte più antico di Roma, è una delle zone più belle di Roma in assoluto perché è quella che ci collega con il fuori Roma e quindi c'è il Tevere, c'è tutta quanta la parte sportiva di Roma, quindi c'è l'Olimpico, c'è il Flaminio, lì assolutamente va creata una ZATL, non per i residenti, anche se le tecnologie ce lo permettono, per cercare di gestire un po' tutto quello che si è creato fino a ora e vanno tolti i buchetti da solo da Ponte Emilio perché è uno scempio.